Musica Aiutare l'hospice è importantissimo perché riesce a dare speranza anche a quelle persone che forse l'hanno persa e quindi da parte nostra è doveroso dare un aiuto perché è veramente importante Invece in tanti a Regina Village, un saluto a tutti e buone feste a tutti Ciao a tutti, un augurio di buon Natale, venite numerosi a Regina Village e sosteniamo tutti insieme l'hospice Musica Musica Musica